Buonasera, siamo qui all'Iraki, all'isola di Rodi, sabato 18 agosto siamo agli sgossoli di questa vacanza e quindi come ogni anno, come ogni vacanza è raggiunto il momento di perpetuare la tradizione solita, quindi Borrandi, ora verrà il calcio finale, vediamo un attimo l'impresa, la palla se ne va, il nostro prode resta in piedi Cazzo voglio di camminare, passaggio lungo, negozio, poi andiamo su, partirebo i miei, caffè, negozia, c'è un frusaglio, maglietti, l'altro caffè, c'è un mince, c'è 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 c'è, auguri, dobbiamo passare tra la prima isola e la costa, siamo a Yalta, nella piazza principale della città, libertà sovietica raggiunta con grande sforzo, siamo a città del capo, e poi i significati sono molteplici, spatolate a oggi, dimensioni giuste, prezzo buono, può diventare un grande affare se non si spaccherà in valigia durante il tragitto verso l'ignoto. Poi cazzo, siamo andati a finire. Immaginatele a febbraio, a mezzo, a meno 30 gradi, un momento spazzante, sei da 10 secondi. e magari tormerai a sorridere, come faceli quando ti ho conosciuta. guarda... guarda... oh cazzo! che continua a scrivere so we are at the beach in Ukraine and this is our hotel, a wonderful view e questo sono io che come ogni giorno mi chiedo che cazzo? fare? ... ... .... .... ... .... ..... ... ... ... ... Grazie.